Non lo so, il presidente oggi ha molto da fare, tutti in questo posto oggi abbiamo molto da fare, oggi in questo posto è arrivato un uomo, un uomo con la faccia sospetta, non lo sappiamo di cosa, ma quando abbiamo visto la sua faccia abbiamo capito subito che non doveva più scappare e noi non l'abbiamo fatto più scappare, l'abbiamo preso in tempo, dal collo l'abbiamo preso, perché dalla faccia abbiamo avuto un sospetto che potesse fare qualcosa, perché l'abbiamo preso prima, se non l'avessimo preso prima qualcosa avrebbe fatto.